Presentato il cartellone del Catania Summerfest 2024, promosso dall'amministrazione comunale in sinergia con istituzioni e associazioni culturali. Oltre 160 eventi da giugno a ottobre, tra musica, danza, letteratura, arte e cinema, incastonati scenari suggestivi e fortemente rappresentativi di una città in evoluzione che si riappropria di spazi e luoghi. Innanzitutto il Giardino Bellini con la nuova arena che conta 5.000 posti a sedere, la piazza Federico di Svevia pedonalizzata, la corte Mariella lo Giudice del Palazzo della Cultura, palcoscenico e casa per tanti artisti. Il Castellorsino è il nuovo spazio ricavato nella corte della Galleria d'Arte Moderna connessa alla nuova Pinacoteca del complesso museale di Santa Chiara che fino a ottobre ospita la mostra di Caravaggio. Il programma è stato illustrato dalla sindaco Enrico Trantino che ha mantenuto per sé la delega alla cultura e ai grandi eventi. Catania assurge a essere città protagonista per la prossima estate. La contemporanea difficoltà di Tarumina e di Siracusa nella realizzazione di eventi ci permette di avere questo primato che dobbiamo saper sfruttare. E quindi consentirci di attrarre non solo siciliani ma anche italiani e perché no anche turisti stranieri in base al cartellone che proponiamo che nella sua variegazione consente di dare offerte per tutto il pubblico. Il cartellone messo a punto nel suo complesso è forse uno dei più importanti del meridione con attrazioni internazionali come il volo, artisti emergenti come Riete, sino ad Anna Lisa oppure Evergreen come Massimo Ragneri. Persino cantanti che forse terranno qui il loro ultimo concerto come pare abbia annunciato Umberto Tozzi o Antonello Venditti, Francesco De Gregoli solo per fare qualche nome che sono delle vere e proprie icone nazionali dello spettacolo. Artisti che si esibiranno nel cuore della città di Catania in una villa Bellini che adesso ha anche una tribuna che permetterà di assegnare i posti così da evitare le lunghe file in vietnea che abbiamo visto in passato. Tra i numeri della rassegna si contano 67 serate al Palazzo della Cultura, 26 nel Museo Civico Castello Ursino, 7 a Piazza Federico di Svevia, 21 nel Giardino Bellini, 19 nella Galleria d'Arte Moderna ai quali si aggiungeranno diversi altri eventi in via di definizione.